Signori, benvenuti alle tenute babudoglio. Vi annuncio l'imminente arrivo di un nuovo finanziamento dall'Unione Europea. Talmente tanti soldi da non sapere come spenderli. Bruxelles ha dato parere negativo alla vostra richiesta. Si, lei sta dicendo che non solo non arriveranno i soldi che pensavamo arrivassero, ma ce ne chiedete voi indietro. 534 mila euro entro 15 giorni. E se sforiamo? Cucu! Adesso ognuno di noi compila una lista di idee per trovare i soldi che ci mancano. Ma cosa pensi che tanto d'estate e un po' d'acqua, cosa crede che ci faccia? È già Noè, mamma mia! Adesso ognuno di noi compila una lista di idee per trovare i soldi che ci mancano. Adesso ognuno di noi compila una lista di idee per trovare i soldi che ci mancano. Adesso ognuno di noi compila una lista di idee per trovare i soldi che ci mancano. Grazie.